Parte da oggi l'appuntamento Meteo Weekend e scopriremo nel dettaglio quello che accadrà nel corso delle prossime ore in questo weekend di giugno. Rispetto ai giorni scorsi la situazione dal punto di vista termico è migliorata, il caldo intenso l'AFA ha abbandonato le nostre regioni, oggi soffre un maestrale sostenuto soprattutto lungo il versante adriatico, ci terrà compagnia anche nella giornata di domani, ma da domenica ci prepariamo ad accogliere la seconda ondata di caldo che ci porterà a temperature a metà della prossima settimana attorno ai 40 gradi. Quindi oggi e domani ancora due giornate fresche e ventilate con mari mossi soprattutto all'Adriatico, da domenica rotazione dei venti da sud sud est, incremento delle temperature con massime che già domenica si attesteranno attorno ai 33-34 gradi sulle zone interne. E poi come detto la prossima settimana soprattutto tra martedì e venerdì la colonina di Mercurio potrebbe sfiorare i 40 gradi.